Monitorare in modo più efficace ed efficiente la situazione dell'emergenza Covid per il diffondersi del virus, cercare di smaltire le lunghe file per effettuare i tamponi che si stanno creando nell'unico posto della città di Salerno, in via Capitolo San Matteo, evitare attese assembramenti, queste in primis le necessità per le quali risulta necessario predisporre un altro centro USCA per rispondere all'ormai dilagante richiesta di tamponi, ma anche e soprattutto per l'attività principale delle unità speciali di continuità assistenziale per aiutare i medici di medicina generale nella gestione sul territorio dei pazienti Covid o sospetti Covid. Ogni USCA ha il compito di assistere a domicilio i malati, ospedalizzando precocemente ed esclusivamente i casi gravi. Sono questi i motivi che spingono ancora una volta il vice sindaco di Salerno Pacchi Memoli a chiedere con fermezza l'attivazione di un'altra USCA, anche se dall'asla di Salerno proprio ieri il dirigente responsabile Covid, il dottor Arcangelo Saggese Tozzi, ha dichiarato che l'USCA di Salerno è dotata del doppio del personale e vale dunque per due. Tante le persone che in questi giorni, contagiate dal virus sintomatici e asintomatici, sono in auto isolamento a casa, come da ieri anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, che è risultato positivo al Covid. Il primo cittadino ha scoperto la sua positività dopo essersi sottoposto ad un ordinario tampone molecolare di controllo.